Maggiore attenzione al settore florovivaistico pistoiese, uno dei settori di punta dell'economia toscana, alle prese con varie problematiche anche di tipo fitosanitario. E' quanto i vivaisti pistoiesi hanno chiesto al Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, Teresa Bellanova, in visita alle aziende del distretto. Dall'Associazione Vivaisti anche la richiesta di guardare bene quella che è la nostra attività, della quale siamo fieri. Nel senso che spesso chi si occupa di amministrare l'agricoltura ha conoscenza dell'agricoltura tradizionale, dell'olio, del vino, ma non approfonditamente in genere il settore nostro, il settore vivaistico. Niente come una visita con i propri occhi, cioè personale, dei nostri vivai, fisica, può migliorare questo aspetto. Questo è funzionale a cercare di coinvolgere il Ministero anche in un miglioramento delle nostre condizioni, per noi sono problemi importanti di carattere fitopatologico e quindi è necessario un accompagnamento maggiore del Ministero da questo punto di vista perché negli ultimi 10-15 anni sono aumentate enormemente le patologie, gli insetti nocivi che attaccano il materiale vegetale, non dovuti dal clima, ma sostanzialmente venuti dalla globalizzazione che ha portato a produzioni anche di altra natura, anche di natura industriale, ma che erano accompagnate da batteri, da altri elementi nocivi che poi però si sono insediati anche su vivai e sulle piante. Quindi è un combattimento quotidiano e noi lo facciamo.